Guten Tag amici, bentornati in Lorenz in der Schweiz, io sono il vostro Lorenzo Pardini allora per chi è in Svizzera da molto, ma anche per i nofiti o per chi si sta affacendo sulla Svizzera, sul suo mercato del lavoro praticamente i lavori prevedono due tipi di salari, o il salario lordo mensile fisso, cioè il monatico del brutto low oppure la paga raria, il lavoratore, ossia lo student law adesso, dopo la sigla di Lorenz in der Schweiz, io non anzerò a quest'ultimo, ossia quello lavoratore, paga oraria, student law e andiamo con la sigla allora eccoci tornati, allora i lavori ad ore rispetto a quelli con i salari fissi, se si lavora tante ore nel mese si gagnerà una bella cifra discreta ok, ora calmatevi tutti, non ci metteremo a scialacquare questi soldi e non lasceremo che modifichino quello che siamo invece il contrario, se si lavora di meno, si gagnerà poco di conseguenze però nonostante questo, questi lavori in studio a paga oraria prevedono comunque dei diritti che sono anche nei lavori con il salario lordo mensile ossia il datore di lavoro per legge, oltre alla paga oraria che vi deve dare dovrà pagare un supplemento come le ferie, la tredicesima, i giorni festivi e così via allora, per quanto riguarda le ferie, questo è dell'8,33% sul totale se si è aderito a 4 settimane di ferie 10,64% se si è aderito a 5 settimane di ferie e infine il 13,04% se si è aderito a 6 settimane di ferie per quanto riguarda i giorni festivi non sono obbligatori, non tutti li pagano però se sono pagate alcune aziende pagano dal 3 al 3,5% sul totale e infine la tredicesima che è l'8,33% sul totale allora io la busta paga nello specifico con tutte le varie detrazioni, primo pilastro e così via l'ho generalizzata in un vecchio video che vedete anche qua in sopra pressione però adesso andremo a vedere una schermata di esempio con una, su un del loro, una busta paga per farci un'idea generale e andiamo con la schermata allora eccoci amici su una busta paga di un vecchio lavoro che per motivi di privacy non mi sarò a dire quale, dove, tutto allora come vedete allora, paga base dello shoeman è 54,15 franchi quindi nel mese sono state fatte 11,50 ore quindi il totale 622,85 franchi poi questo totale 622,75 franchi applichiamo la percentuale di ferie che quindi a queste ferie auszalung 8,33% quindi lo moltiplichiamo e ci verrà 51,90 franchi e in più poi sempre sul totale quindi queste 54,15 per 11,50 quindi 622,75 avremo anche una percentuale di malattia la crank and night che è il 2,5% quindi facciamo 622,75 per 2,5% ci verrà 15,55 franchi e da qua abbiamo il lordo che è il brutto low che ci viene, sommiamo tutto 690,20 poi dopo se ci sono le attrazioni classiche della busta paga con generalizzato il vecchio video vedete anche in sovrappressione quindi il primo pilastro, la malattia e tutto e avremo il netto e questo è tutto bene amici come avete visto in questa busta paga sono presenti sì le ferie ma abbiamo invece la crank and night ossia la malattia perché? perché alla fine come vi ho detto prima le ferie sono obbligatorie mentre invece per il resto gli altri parametri possono un po' variare quindi in generale c'è di solito la tredicesima ma in questo caso c'è la crank and night ossia la malattia bene amici con questo è tutto vi ringrazio per avermi seguito fate like se non l'avete fatto per qualsiasi cosa ci sono i miei contatti iscrivetemi sulla mail o sui social vi ringrazio per avermi seguito oggi vi do appuntamento al prossimo video e dalla Richard Weiss per oggi è tutto ciao